L'On. Giulio Sottanelli, segretario regionale di Azione, oggi all'Aquila per benedire la nascita di un nuovo gruppo consigliare in comune, formato da Enrico Verini di Azione, Gianni Padovani, eletto con la lista 99 l'Aquila, ma da sempre socialista. Finora erano in monogruppo, un tentativo per avere più forza in consiglio e lavorare su una grande area riformista. La presentazione dell'Intergruppo è l'occasione per iniziare un patto di collaborazione con il Partito Socialista, per un progetto riformista appunto che sarà importante anche per le prossime regionali. Questo perché ovviamente ad oggi gli occhi sono tutti puntati lì. C'è dinamismo e volontà da parte di Azione, ha detto Sottanelli, per aggregare forza e sensibilità ed essere protagonisti. Sottanelli in realtà già si è seduto al tavolo del centro-sinistra regione per ascoltare il lavoro delle opposizioni. Se ci saranno le condizioni per lui si potrà anche pensare ad un progetto tutti insieme. L'obiettivo ovviamente è aggregare tutte le forze possibili. Sono molto contento che parte dall'Aquila, il nostro comune capoluogo di regione, questa collaborazione tra Azione e la Federazione dei Socialisti Abruzzesi, che ovviamente andrà come obiettivo a consolidare il progetto riformista come proposto dal Consiglio regionale. Quindi lavoreremo appunto da subito per creare le giuste sinergie, partendo dall'Aquila e creando un progetto che possa dare un aiuto, un sviluppo e un protagonismo diverso alla nostra regione, che purtroppo continuano ancora a perdere competitività. Non ultima la perdita dei stanziamenti del fondo PNRR, dove il Presidente dice che comunque verrà realizzata l'alta velocità, diciamo il miglioramento del tratto Pescara-Roma, però non ci dice dove prenderà i soldi, quali soldi e soprattutto con quali tempi. Quindi da oggi cominciamo a costruire un progetto importante e quindi saremo pronti per le prossime elezioni regionali. Senta, vi state già sedendo a dei tavoli con il centro-sinistra? Lì siamo stati invitati come uditori e siamo andati perché chi ha organizzato erano i capigruppi del Consiglio regionale di opposizione, e quindi hanno voluto spiegarci, noi che siamo fuori dal Consiglio regionale, l'attività che l'opposizione ha portato avanti in questi cinque anni di governo Marsiglio. Quindi siamo andati come uditori, vediamo se ci sono le condizioni o meno per fare in modo di creare un progetto che sia ovviamente rispondendo alle tante esigenze troppe che ha l'Abruzzo.